Il miracolo è difficile fare, i 100 punti e i 50 punti, sta giocando una... cioè poi sia un miracolo che è un miracolo, un miracolo è uguale a tutti perché allora la gente quando succede un miracolo che vedono una cosa che succede dice un miracolo, un miracolo, tutti quanti hanno detto un miracolo, un miracolo e ma io sa l'unica cosa che succede, c'è un miracolo, perché è un miracolo di 50 punti No, no, c'è sta un miracolo, un miracolo e un miracolo di voi, è un miracolo, un miracolo... No, 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 esiste un miracolo, un miracolo è un miracolo che ci sanno, tutto affollato, dice mi no! o no, mi dà! i fissi, per me ci sanno! o no!